Fatte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di Pantani, non risponde Ulrich, Ulrich che aveva già dimostrato che quando scatta Pantani è meglio lasciar perdere, però vediamo che si volta, vede che sta arrivando qualcuno, aspetta, aspetta Leblanc, aspetta Leblanc che si è voltato, ha rallentato, ha capito che Luc Leblanc può essere in grado di dargli una mano, è la prima volta forse che Pantani dà una dimostrazione di grande intelligenza pratica. Ma intanto ha staccato tutti. E riparte, riparte Pantani, Pantani ha fatto il vuoto, Pantani ha fatto il vuoto quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione? Vorrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla Vesta del Galipier, poi dal Gran Piero della Montagna ancora 42 chilometri, sta andando molto forte Pantani. Pantani ha dimostrato di voler vincere il Tour de France.